il nostro modellismo bravissimo bello passaggio vicino a noi bullo passaggio 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 chi deve ancora effettuare i voli liberi come passeggero in ultraleggero si prega di recarsi sotto il gazebo bianco così facciamo gli ultimi passaggi, grazie chi deve ancora effettuare il volo come passeggero sull'ultraleggero si recchi sotto il gazebo, grazie